Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il magazine di Telecosta Smeralda e la compagnia Ita Airways assicura che quest'inverno ci saranno più voli e più frequenze. Lo assicura direttamente il presidente della compagnia Antonio Turicchi rispondendo a una lettera aperta del giovane scrittore sardo Matteo Porru. Ci voleva l'accorato appello dello scrittore di origini sarda Matteo Porru per attirare l'attenzione sui cieli dell'isola dove ogni giorno si combatte per un posto in aereo. Il giovane autore di romanzi, saggi e racconti inserito da Didi Repubblica fra gli under 25 più promettenti al mondo, vincitore nel 2019 del premio Campiello, ha scritto una lettera aperta al presidente di Ita Airways Antonino Turicchi che nell'isola gestisce in alcuni scali la continuità territoriale, in particolare nelle rotte da Epercagliari su Roma e Milano. Lo scrittore si è lamentato infatti per i ritardi nei voli e per una minore disponibilità di collegamenti nella stagione invernale. La reazione è stata immediata, la compagnia ha replicato prontamente assicurando che, si legge nella risposta, nei mesi invernali i passeggeri sardi potranno contare su una maggior continuità territoriale grazie ad un aumento dei voli pianificato da Epercagliari. Da novembre a marzo, sulla rotta Cagliari-Milano-Linate, la compagnia ha previsto un incremento di tre voli giornalieri e aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal decreto di imposizione degli oneri di servizio pubblico, passando da quattro a sette voli. Allo stesso tempo, sulla rotta Cagliari-Roma-Fiumicino sono stati operati otto voli giornalieri per tutto il mese di ottobre e ne sono previsti sette per tutto il mese di novembre, secondo quanto previsto dal decreto, mantenendo l'ottava frequenza per il Ponte dei Santi dal 29 ottobre al 5 novembre. Per tutto l'inverno, dunque, per i mesi di dicembre, gennaio e marzo, ITA opererà sette voli giornalieri, uno in più rispetto al decreto. A febbraio, invece, ne saranno previsti otto, sempre come previsto da decreto. Per il management della Compagnia di Bandiera Italiana, l'impegno attuale sulla Sardegna segue lo sforzo già attuato durante il periodo estivo durante il quale, tenuto conto del dimensionamento dell'offerta contenuto nel decreto ministeriale, ha notevolmente incrementato la capacità offerta sui voli in continuità territoriale da e per l'isola, così da rispondere al marcato aumento della domanda registrato su tali collegamenti. Interways sottolinea inoltre di aver definito, in sede di gara, la propria offerta in termini di capacità sulla base delle frequenze previste dal decreto, determinate secondo una stima della domanda, che ha tenuto conto anche della situazione emergenziale della pandemia da Covid. Soltanto nelle ultime due settimane Cagliari ha ospitato un mondiale di windfoil e un europeo under 22 di vela, due competizioni internazionali che mettono l'accento sulle potenzialità dell'isola, ha la sua capacità anche di organizzare grandi eventi mondiali. Due settimane a ottobre, il tempo, il meteo, ci favorisce. Come le idee e quella scommessa sfida di puntare le fish su bloom, all in, su quel blu, sul mare dell'isola. Da nord a sud pure il centro c'entra. E allora si scopre, ma sarebbe più corretto scrivere e leggere, e ormai una certezza, che la Sardegna è sempre più isola dello sport e sempre più isola della vela. Due settimane, e i cagliaritani, i turisti, tanti, e gli stranieri, pure loro tanti, che continuano a trenerare i numeri, le presenze con il segno più nella sezione arrivi, pernottamenti e soggiorni, si sono ritrovati a godere di due, tre manifestazioni e eventi che mettono la Sardegna, di nuovo, al centro del villaggio della vela o di tutto quello che ruota intorno al movimento. Lo sanno bene quelli della Federazione Nazionale e i loro omologhi regionali. Lo sanno bene le istituzioni e tutti gli attori che hanno partecipato a stilare un calendario ricco, sontuoso, denso di appuntamenti. E che appuntamenti? Da un mondiale a un europeo, solo per citare e ricordare, gli ultimi due a ottobre. Anche perché questi eventi stanno portando una stagione molto più lunga. Come ho detto in altre occasioni, avremo numeri da record e non è un caso che ci sono tanti stranieri. Avremo sempre una promozione più forte, sempre un investimento più azzeccato, sempre un'economia della Sardegna che grazie agli eventi, soprattutto anche agli eventi sportivi, è più ricca. Gongolano tutti, insomma, e fanno bene. Quel binomio, quel matrimonio, quel patto sport e turismo è indotto sta davvero rivoluzionando il modello Sardegna. Tutto l'anno, Sardegna tutto l'anno, quante volte l'abbiamo sentito. Sardegna, non solo mare, ma in questo caso e in tanti altri. Il blu, il nostro, fa il suo sacro santo dovere. A questo aggiungiamo altre esperienze di turismo che sono entrate di diritto nell'immaginario collettivo del turista. cammini e sentieri, sentieri religiosi, cicloturismo, fino ad arrivare alle tradizioni nostre e tutto il mondo che ci gira attorno. Ma, se tante volte abbiamo scritto e letto che il mare per una volta non era la torre protagonista, beh, questa volta lo è. E come? Ottobre, quindi. Bene archivio, con un bilancio stra-positivo in termini di promozione del territorio legato appunto a un europeo e un mondiale. Di vela, in questo caso, dove non solo, solo, si sono divertiti gli atleti, gli appassionati di quello o quell'altro sport legato al mare o alla vela. Si sono divertiti tutti, proprio tutti, ristoratori, albergatori, atleti, tutto lo staff annesso e l'indotto. Sette lettere che per una volta sono aderenti alla storia che vi abbiamo appena raccontato, storia di sport e turismo, in un titolo semplice, facile, intuitivo, immediato, Sardegna, isola della vera e del turismo. Sardegna tutto l'anno, anche in autunno, magari per passare delle giornate in campagna per raccogliere funghi, ma a proposito di funghi, occorre stare attenti ed ecco allora che la nostra isola, attraverso l'ASL mette sull'attenti coloro che vanno a cercare funghi perché riescano a scegliere, selezionare ed evitino ogni rischio. L'autunno è la stagione migliore per la raccolta dei funghi. Le prime piogge, infatti, insieme al calo delle temperature, spingono i cercatori alla caccia di porcini e prataioli che pullulano in queste prime giornate di freddo in boschi e campagne. L'occasione è perfetta per trascorrere una domenica all'aria aperta per poi magari gustare anche quanto si è raccolto. I funghi, valda appena ricordarlo, sono un alimento prelibato capace di insaporire molti piatti diversi tra loro e oltretutto hanno anche pochissime calorie, 25 ogni 100 grammi di prodotto fresco, molte proprietà e indubi benefici per il nostro organismo. Ma non tutte le specie, si sa, sono commestibili, anzi, i più desiderabili esteticamente a volte sono quelli più pericolosi poiché velenosi. Ma come distinguerli e soprattutto dove portarli per un accurato controllo che eviti brutte sorprese? L'ASL 5 di Oristano ha così caricato sul proprio canale YouTube, un videotutorial realizzato dall'ufficio stampa dell'azienda sanitaria e dall'ispettorato micologico diretto dal dirigente dell'area della prevenzione Mario Piras. Il primo consiglio che mi sento di dare è quello di far controllare i funghi nei vari ispettorati micologici che ci sono ormai sparsi in tutto il territorio della Sardegna e anche in Italia. Un altro consiglio che devo è quello di diffidare da far riferimento ad esperti che poi sono esperti improvvisati e quindi che creano poi solo danni. Consumare i funghi in perfetto stato di conservazione e poi magari scegliendone i proprio giovani esemplari. I funghi che vanno consumati devono essere ben cotti perché anche ci sono alcuni funghi che se vengono cotti male hanno delle tossine termolabili quindi possono intossicare anche queste. E un altro consiglio molto valido è quello di non raccogliere i funghi nelle strade e nelle discariche perché chiaramente alcuni funghi sono ipercapitanti e quindi hanno delle sostanze tossiche dentro. E quindi mai affidarsi ad esperti improvvisati, mai proporli a donne in stato di gravidanza e bambini e soprattutto farli controllare prima di cucinarli perché se è vero che insaporiscono le nostre tavole in autunno con i piatti della tradizione è anche vero che il fungo può intossicare e costringerci a trascorrere qualche ora al pronto soccorso nel migliore dei casi. Il fungo deve essere raccolto intero non va tagliato ma va estirpato quindi tutta la parte della componente del fungo anche la parte che risulta essere all'interno del terreno. I funghi vanno raccolti con gli appositi cestini quindi non vanno messi all'interno delle buste di plastica e soprattutto una volta arrivati a casa sarebbe opportuno che questi venissero conservati a volte all'interno di fogli soprattutto se dovete portarli a farli visionare all'ispettore micologo che questi vengano messi in fogli di carta e conservati in frigo e portati al massimo entro il giorno dopo perché comunque man mano che il tempo passa il fungo ha anche all'interno del frigo in vecchia quindi magari potrebbe perdere quelle che sono le sue caratteristiche soprattutto per quanto riguarda colori e profumi che aiutano l'ispettore micologo all'identificazione del fungo. E' sempre nell'isola stando qua insomma si può aiutare anche chi invece sta molto lontano da noi e ha bisogno di farmaci ad esempio di strutture sanitarie c'è una raccolta fondi a quarto con una mostra che è stata diretta da Giovanni Coda ci racconta di bambini e di uomini e donne lontani gente che vive in un mondo e in un modo diverso da noi e che associazioni di volontariato come farmacisti nel mondo riescono a intercettare portandocene testimonianza con eventi come la mostra estroverso meta inverso la cura dell'incanto allestita all'ex convento dei capucini di Quartus Sant'Elena e che aprirà i battenti sabato 4 novembre nei giorni scorsi la presentazione al pubblico alla presenza degli ideatori e di Giovanni Coda che ne ha curato la direzione artistica una mostra a solidare per sensibilizzare e promuovere l'attenzione verso i progetti internazionali a supporto delle piccole comunità negli angoli più remoti dell'Africa che necessitano di prodotti medici di base e strutture sanitarie l'evento mostra a Quartus Sant'Elena intende promuovere la raccolta fondi per l'acquisto del materiale di primo soccorso e della strumentazione medica per il dispensario in costruzione a Cacuti prefettura di Uambo un piccolo villaggio in Angola e della fornitura per una farmacia itinerante e dinamica per l'assistenza domiciliare con apparecchi di facile trasporto il dispensario farmaceutico è un qualcosa di molto importante in un luogo come l'Angola perché è un luogo martoriato da una guerra civile quindi diciamo che quello che è l'aspetto sanitario è sicuramente un aspetto importante considerando anche dove si trova il villaggio appunto di Cacuti è un villaggio dove insomma le condizioni sanitarie sono insomma delle condizioni piuttosto precarie Cacuti si trova insomma vicino a una grande metropoli che parlo di grande metropoli perché sto parlando di Uambo insomma quindi che è una delle principali città dell'Angola però Cacuti è un villaggio un villaggio dove insomma le condizioni economiche sono condizioni veramente disagiate e l'accesso alle cure mediche è sicuramente difficoltoso le fotografie della mostra estroverso meta inverso la cura dell'incanto sono di Rosario Longobardi presidente di farmacisti nel mondo o di Viu una selezione degli scatti realizzati in diverse località dove farmacisti nel mondo ha operato in questi anni il nostro modello è attraverso eventi culturali ludici e sportivi far divertire le persone farli appunto portare di fronte a una nuova realtà ma anche venire e girare il mondo con un turismo responsabile infatti noi siamo una delle prime associazioni dove attraverso il farmacista reclutiamo anche volontari e chi vuole fare semplicemente un viaggio per vedere un orfanotrofio come funziona veramente aprire gli occhi e toccare con mano il mondo del volontariato o semplicemente anche del turismo però non un turismo diciamo fatto per rilassarsi è per vivere l'Africa per vivere l'Amazzonia e quindi mettersi in gioco e quindi fare un viaggio che ti cambia la vita oltre a Longobardi i responsabili e i coordinatori della mostra fotografica sono Patrizia Pulcini vicepresidente dell'associazione responsabile dei progetti internazionali Federica De Villa ambasciatrice e coordinatrice per la Sardegna di farmacisti nel mondo Fabrizio Datti ambasciatore e coordinatore per la Sardegna di farmacisti nel mondo il progetto è sostenuto dal Network Farmacia Dinamiche associazione comitato di amicizia o di V la cura della direzione artistica è affidata a Giovanni Coda fotografo e regista pluripremiato nel mondo per le sue opere cinematografiche uno sguardo alla programmazione di Telecosta Smeralda alle 15.30 alle 20.30 studenti in cammino un speciale curato da Valentina Orgiu Alessandro Paglietti e Roberta Soru che ci racconta il cammino di alcuni studenti di un istituto superiore di Cagliari nel luogo delle miniere di Santa Barbara una quarantina di ragazzi del liceo scientifico Alberti ha partecipato all'iniziativa studenti in cammino inserita nell'ambito della seconda edizione del progetto noi camminiamo in Sardegna promosso ai primi di ottobre dall'assessorato regionale del turismo un'esperienza alla stregua di un vero e proprio pellegrinaggio condivisa con i docenti le guide e la fondazione del cammino minerario di Santa Barbara che ha condotto i giovani camminatori in un viaggio attraverso l'epopea mineraria ripercorrendo forma e composizione di quei paesaggi che ancora oggi testimoniano la storia allo sviluppo e l'evoluzione del sulcis iglesiente Telecosa Smeralda li ha seguiti in questa esperienza unica la prima per tanti di loro e ve la racconta oggi nello speciale Studenti in cammino in onda sulla nostra emittente alle 15.30 e alle 20.30 Ed è davvero tutto per il momento io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni e vi do appuntamento Grazie a tutti.